Il pallone controllato da Nigro, il retropassaggio è per Contini, il subito di prima intenzione in avanti, preferisce non rischiare, ha tentato un improbabile colpo di tacco San Pietro, poi di testa Dumbià stacca e realizza il terzo gol, Lecce che si porta sul 3-0, supera tutti, quasi fosse su un ascensore, Dumbià è riuscito ad anticipare tutti i difensori del Taranto, anche un suo compagno di squadra, uno stacco incredibile, imperioso quello dell'attaccante. Uno stacco da giocatore di basket con un terzo tempo, quindi non ha guardato per niente gli avversari, ma ha staccato ed è rimasto in alto, andando a colpire la palla prima che i difensori del Taranto potessero attaccarlo, quindi un gran gol per tempo e stacco, anche il cross di Lepore è stato un cross intelligente, non fortissimo, però che ha dato la possibilità a Dumbià di staccare con questo terzo tempo e arrivare più in alto di tutti. E dunque il 3-0 firmato da Abdu Dumbià, 26 anni il francese, la quarta stagione con la maglia del Lecce, per lui si tratta del quarto centro stagionale con la maglia giallorossa in 27 presenze, è entrato in campo nel corso della ripresa al posto di Torromino e dunque entrambi sono andati in gol, prima Torromino nel corso del primo tempo e adesso anche Dumbià per il 3-0 del Lecce. Grazie per la visione!